Ciao a tutti amici di Dialight e benvenuti a questa nuova video recensione in cui vi mostrerò un nuovo Fitness Tracker in questo caso lo smartwatch della VIX Sintech che come potete vedere ve lo mostro allo schermo poi lo vedremo più approfonditamente dal design tondeggiante peraltro con alcune caratteristiche molto interessanti innanzitutto, per prima cosa, il rapporto qualità-prezzo eccezionale un'ottima autonomia, display IPS e un software al suo interno molto semplice da utilizzare molto colorato con icone tridimensionali insomma tutte le funzioni che ci si aspettano da un prodotto di questo genere compagno ideale per il proprio allenamento per cui, bando alle ciance adesso andiamo nel mio approfondimento con la mia recensione tecnica in cui vi mostrerò quali sono i pro di questo prodotto e i contro, cioè le cose che non mi hanno soddisfatto appiano seguitemi Allora, ecco qua lo smartwatch della Vic Saintec questa è la confezione realizzata sembra in un cartonato riciclabile molto molto carina, molto semplice vi faccio vedere se riesco ad aprirla con una mano che cosa c'è al suo interno allora, un piccolo manualetto per le istruzioni eccolo qua peraltro multilingua c'è anche l'italiano poi c'è il classico cavettino USB lo prendiamo eccolo qua USB con supporto magnetico nella parte finale che vi servirà per poi agganciarlo ve lo faccio vedere a questi due piccoli elementi di metallo magnetici per la ricarica ancora una volta uno dei sistemi che sta andando per ora per la maggiore perché non costringe a dover necessariamente togliere uno degli elementi del cinturino per liberare un eventuale USB sempre all'interno della confezione vi faccio vedere le cartine che sono rimaste c'è anche un vetrino di protezione temprato che purtroppo non togliamo la scatola di mezzo copre perfettamente il display non so se riuscite a vederlo eccolo qua il dentino però diciamo che è sicuramente apprezzabile che la VIXIENTEC che abbia pensato alla protezione dello schermo di questo smartwatch di questo Fitness 3 i sensori sono nella parte posteriore peraltro le misurazioni sono sorprendentemente precise io l'ho messo a confronto con il mio S3 Frontier eccolo qua e per esempio per quanto riguarda la frequenza cardiaca è decisamente molto molto simile allora per quanto riguarda le sue caratteristiche di design come potete vedere ha questa ghiera cromata nella parte frontale che non ruota rimane fissa io decisamente dopo la brutta esperienza con l'S3 Frontier la apprezzo molto le dimensioni sono di circa 4,5 cm il diametro totale per circa 1,3 cm l'altezza complessiva 40,8 grammi è decisamente molto molto leggero mentre il display è un IPS da 1,22 pollici molto luminoso anche se devo dire pur avendo la funzione di luminosità automatica ha mostrato qualche difficoltà per esempio sotto il sole la batteria è una batteria in litio bluetooth 4.0 compatibilità con iOS 8.0 o versioni successive così anche come Android 4.4 o versioni successive l'abbinamento è veramente immediato e per quanto riguarda la sincronizzazione per tutte le sue varie funzioni che ora vi faccio vedere è necessario installare un'applicazione che voi potete trovare non nel Google Play Store ma all'interno del manuale lo sto andando a prendere vi faccio vedere allora se voi andate a cercare ecco qua vedete? troverete questo QR code che rimanda all'applicazione H-Band quella servirà per poter connettere il vostro smartwatch della Vicksintech all'applicazione senza quello non potete sfruttare nessuna delle funzioni che sono all'interno di questo smartwatch qual è diciamo lo strumento il tool che vi permette di passare da un menu all'altro è questa ghiera che ruota ma ovviamente non cambia niente sul display che funge da diciamo pulsante infatti voi se la premete in questo caso si accende la prima schermata nella quale potete vedere la distanza percorsa la frequenza ultima rilevata e i passi effettuati e accendiamo anche il livello della batteria il fatto che in questo momento lo smartwatch è sincronizzato con il mio telefono android e la data con purtroppo la scritta in inglese e mesi e giorni ripremendo nuovamente sempre il nostro tastino diciamo la ghiera dell'orologio passate alle varie funzioni in questo caso i passi le chilocalorie consumate la distanza percorsa la frequenza cardiaca quindi il rilevamento della frequenza la durata di riposo che avete effettuato un timer per il conto alla rovescia che però è attivabile solo una volta che lo avete sincronizzato con l'applicazione h band e poi la funzione sport per entrare all'interno della funzione sport dovete tenere premuto per qualche secondo il pulsante come vedete è partita la sessione di allenamento ritenendo premuto il pulsante vediamo un po aspettate tenendo premuto dovrebbe andare in pausa vediamo se ci riusciamo ecco non dovevamo tenerlo premuto ma semplicemente cliccare una volta per far comparire il pulsante pausa un'altra volta invece il pulsante esci dalla sessione di allenamento infatti tenete premuto come vedete è tornato alla partenza una volta ricliccato nuovamente arrivate all'ultima funzione che è quella dello spegnimento del telefono nel quale compare anche il modello del telefono e l'ultima versione di firmware installata ecco qua la schermata principale peraltro ci sono all'interno dell'applicazione diversi stili che potete applicare se non ricordo male sono circa 5 stili io ho utilizzato questo ma voi potete poi scegliere quello che più vi aggrada quali sono i pro e i contro di questo fitness tracker allora per chi ama il design rotondo sicuramente è un ottimo fitness tracker fa quello che deve fare la batteria peraltro con solo due ore di ricarica ha una durata stimata intorno ai 15 giorni io sono già diversi giorni che lo utilizzo e come vedete non è ancora nemmeno scesa una tacca della batteria è molto preciso anche la rilevazione della frequenza è decisamente in linea con smartwatch di livello estremamente superiore ha un ottimo rapporto qualità prezzo perché vado a controllare ancora ad oggi si tratta di un prodotto sotto i 50 euro per cui decisamente molto conveniente se considerate che avrete a disposizione smartwatch vetrino di protezione e alimentatore all'interno della confezione si può sincronizzare con la stragrande maggioranza dei social network che avete a disposizione sul telefono quindi potrete vedere poi sul display le varie notifiche e la velocità di connessione con di compatibilità per meglio dire con il vostro smartphone sia che si tratti di android con ios è davvero immediata che cosa non mi piace beh diciamo che il pulsante qui esterno non è estremamente robusto quindi sono un pochino preoccupato che con il tempo potrebbe rompersi decisamente è poco probabile che rimanga così integra la ghiera visto che è così esposta se lo utilizzate davvero in allenamento un allenamento intenso per esempio con l'utilizzo di bilancieri o manubri mentre un'altra cosa che diciamo mi ha lasciato un pochino perplesso se riesco a rifarlo di andare a fuoco ecco così è sicuramente il fatto che sotto la luce del sole il monitor il display che monitor pur essendo un IPS vi dicevo da 1,22 pollici non è risultato estremamente brillante però devo dire in conclusione che il rapporto qualità prezzo lo inserisce a pieni voti fra i prodotti sui quali io farei un pensierino se volessi fare sia un regalo ma anche mi volessi avvertare di un fitness tracker e dal design diverso dai soliti rettangolari che seguono la linea del polso per questa video recensione direi che ormai è tutto vi ho detto tutti in particolare la mia user experience su questo oggetto della Vix Vi rimando alla prossima vi ricordo che se avete domande su questo prodotto di scrivermele nei commenti io cercherò di rispondere a tutti per questa video recensione è tutto Andrea Meini vi saluta e vi rimanda alla prossima ciao a tutti ciao a tutti